Mister alla vigilia della trasferta contro la Virtus Entella, domani potrebbe arrivare la certezza della retrocessione, con che spirito il Varese scende in campo? Tanto speriamo che non arrivi la certezza perché vuole dire che andiamo a Entella a raccogliere dei punti, infatti andiamo a Entella per giocarci la nostra partita e speriamo di tornare a casa con una buona prestazione e anche con un buon risultato. Punti che non sono arrivati nelle ultime partite, tranne il pareggio con l'Avelino, nonostante però buone prove offerte dalla squadra? Sì, direi che nelle ultime tre partite abbiamo offerto tre buone prestazioni e dobbiamo continuare su questo trend positivo perché sono convinto, come sempre, che se c'è la prestazione alla fine arriverà anche il risultato. E dal punto di vista dell'avversario che Entella ti aspetti? Mi aspetto un Entella che giocherà col coltello fra i denti, in zona play-out, per loro questi tre punti sono fondamentali per la salvezza, per cui metteranno in campo tutto quello che hanno per portare a casa questo risultato. In casa penso che abbiano un solo risultato loro, che è la loro vittoria. Tra le fila bianco-rosse naturalmente le assenze non mancano, che formazione schiererai, nel senso se ci sarà qualche novità rispetto a sabato? Per il momento la formazione è ancora da decidere per molti elementi, nel senso che valuterò domani la condizione fisica di tutti e poi a seconda delle risposte che mi daranno da questo punto di vista farò la formazione. Grazie. Grazie. Grazie.